Qual è se sei fatta quella che sabbia devi stavendere loro? Perché sabbia, se cosa che cazzo ti devi fare mai sulla sabbia no? Brava, 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 brava Ecco quello è il pezzo più brutto dove... Bello quel pezzo l'ha fatto però Eh ma quel pezzo è più brutto di tutti dove capisci se... Con le movenze mi ricordo continuo Oh Tutti motorizzati 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 oh Ho fatto ieri sera e a pranzo perché era troppo Ah ok Però va bene eh? Potrei riprendere eh? Che no no questa... No mica No sto a perdere tempo Vabbè questa la velocizziamo sta cosa Tagliamo quando c'è la ruota Sì Andiamo? Ah no vabbè comodi eh comodi 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 no Sfasciate la pista Che ha preso giù? E' tutto a posto? Sì sì E' s'ha avanzato come pedale Che cazzo? Affanculo E che cazzo hai preso? Attenzione Attenzione Si è legginizzato Sfasciate la pista E' una montata di entrare stacca Adesso viene spattato il nodo Ecco Dio Ecco Dio Ecco Dio Tac Oh Vi andà? Ah perché qui... Qui... Io ho l'impressione che è molto più stabile a velocità Oh oh Lancio Lancio Tutto registrato Andiamo E andiamo